Tutorial Nexo in italiano, guida completa Nexo in italiano ufficiale di Criptovalute Italia. Benvenuti in un nuovo video, oggi andremo a recensire, andremo a spiegarvi come funziona Nexo, l'exchange che ci dà la possibilità di acquistare e vendere criptovalute e nello stesso tempo di guadagnare delle percentuali molto interessanti come vedete anche in sovraimpressione fino al 17%, ok? In questo video vedremo a 360 gradi come funziona Nexo, vedremo anche come guadagnare con Nexo e come avere subito un bonus di benvenuto per guadagnare gratis Bitcoin. La prima cosa che dovete fare è iscrivervi a Nexo se ancora non l'avete fatto, se invece l'avete fatto tra poco ci sarà il tutorial dove vi spieghiamo a 360 gradi come funziona. La prima cosa naturalmente è quella di iscriversi e quindi perché non sfruttare un bonus di benvenuto? In basso, in descrizione, troverete il bonus di benvenuto di Nexo, oltre a tanti altri bonus di benvenuto di altri exchange che se non li avete vi daranno la possibilità di guadagnare gratis appunto dei Bitcoin o altre criptovalute. In questo caso specifico quello che vi basterà fare è cliccare sul link e poi effettuare la registrazione all'interno di Nexo dove come sempre dovete poi verificare i vostri dati, inviare i documenti. Una volta effettuata questa verifica vi basterà acquistare 100 dollari di criptovaluta e riceverete in regalo 10 dollari di Bitcoin. Naturalmente nel caso in cui ci sono delle promozioni più importanti nel corso del tempo, magari 25 dollari, 50 dollari può succedere, in basso troverete sempre il link aggiornato. Quindi comunque vi basterà cliccare su quel link e avrete il miglior bonus del momento. Fatto questo naturalmente dovete andare ad effettuare la registrazione e quindi di conseguenza dovete inserire le mail, la password, i nomi, i documenti eccetera eccetera. Non vi facciamo vedere come si fa, considerate che lo potete fare sia da app sia all'interno dell'exchange, quindi dove preferite potete farlo anche da computer. Detto questo, una volta effettuata la registrazione e verificati i documenti ci ritroveremo all'interno della dashboard. Eccoci all'interno della dashboard ufficiale di Nexo. Io adesso la tradurrò in italiano proprio per dare la possibilità a tutti di comprendere le varie voci. Quindi considerate che in questo momento Nexo ha come lingue per poter tradurre il portale il tedesco, il francese e lo spagnolo, ma non c'è ancora l'italiano, magari lo integrerà successivamente. La prima cosa, ripeto, che dobbiamo fare se vogliamo sbloccare il bonus è quella di acquistare criptovalute, quindi fra pochissimo vi faremo vedere come si fa il tutto. Come possiamo vedere qui ci sarà come sempre una linea guida che ci dirà un po' tutto quello che noi dobbiamo fare. Qua ci spiega naturalmente come poter guadagnare lo 0,5% dall'acquisto, la vendita, lo swap, oppure dalla sezione earn di criptovalute, quindi dallo 0,5% in su, perché qui abbiamo la possibilità di mettere in staking appunto le nostre cripto e guadagnare queste percentuali. Vi faremo vedere tutto tra pochissimo. Questo è un conto che abbiamo creato ad hoc proprio per questo video, per farvi vedere come poi si vede e quali sono le opportunità che si hanno quando si ha un conto appena creato. Qua ci fa vedere quello che è il saldo del portafoglio, la linea di credito, gli interessi attivi e poi il livello di fedeltà che è un'altra cosa che andremo ad analizzare tra pochissimo, perché questo è fondamentale anche per aumentare queste percentuali e ottenere altri vantaggi. Abbiamo la possibilità all'interno di Nexo di prendere in prestito contanti o stablecoin, possiamo anche rimborsare i pagamenti con Crypto Cash o stablecoin, possiamo scambiare le nostre criptovalute e naturalmente in questo caso specifico possiamo andarle ad acquistare. Qui troviamo un po' tutte le criptovalute che si possono acquistare all'interno di Nexo. Poi abbiamo l'opportunità di andare a vedere qual è il valore totale di tutte le cripto che abbiamo a disposizione e abbiamo anche un bel referral program che ci darà la possibilità di far guadagnare i nostri amici e guadagnare anche noi invitando i nostri amici all'interno di Nexo. Tra poco vedremo anche all'interno di questo video alcune schermate per quanto riguarda l'app, considerate che le stesse identiche cose che noi possiamo fare nell'exchange più o meno li possiamo fare anche all'interno dell'app. Cambia solo come vediamo naturalmente il layout, la grafica e il fatto che abbiamo comunque accesso veloce all'interno del nostro smartphone. Se è vero che generalmente non diamo consigli finanziari su quelle che sono i token e le strategie da utilizzare nel mondo delle criptovalute, vi facciamo solo vedere quello che si può fare ma non ve lo consigliamo mai perché sappiamo bene che si può perdere tutto. Una cosa che invece vi consigliamo caldamente ogni qualvolta creiamo un nuovo conto soprattutto sugli exchange centralizzati o comunque dove ci permette di fare questa cosa è attivare la sicurezza. Per poter attivare la sicurezza dobbiamo andare nella scheda security o nell'app o all'interno dell'exchange. La prima cosa che dobbiamo fare sempre, questo è fondamentale, è impostare una password difficile. Mai password identiche per ogni exchange, è una regola che utilizziamo noi e che consigliamo di utilizzare a tutti i nostri spettatori. Un altro aspetto fondamentale è quello di andare ad attivare l'autenticazione a due fattori e lo possiamo fare con il classico Google Authenticator. Non vi faccio vedere come si fa perché è una cosa che dovreste ormai saper fare. L'altra cosa fondamentale invece è attivare gli indirizzi, i whitelist, quindi gli indirizzi quelli dove noi possiamo inviare le nostre criptovalute senza problemi quindi la funzione whitelisting la dobbiamo mettere da off a on e poi andare a inserire gli indirizzi dei nostri wallet magari di altri exchange nostri dove sappiamo che generalmente possiamo andare a prelevare e quindi inviare le nostre criptovalute. Quindi se io acquisto un token su Nexo e poi lo voglio inviare su Celsius perché posso prendere un bonus come abbiamo spiegato nel video di Celsius dove vi facciamo vedere come guadagnare 110 dollari di bitcoin gratis quello che vado a fare è attivando questa sezione inserisco l'indirizzo di mio interesse di Celsius in modo tale che io vado a inviare dei token che arrivano sempre nel mio conto Celsius ma nel caso in cui un utente vuole entrare all'interno di Nexo quindi un hacker entra in qualche maniera riesce ad entrare ha questo indirizzo disabilitato e quindi di conseguenza è più difficile inviare le criptovalute a un wallet sbagliato. Tra le altre cose ci può sempre tornare utile perché capite bene che inserendo comunque una rubrica di indirizzi avendo per esempio inviato magari la prima volta come test per vedere che sono arrivate queste criptovalute le volte successive quando vogliamo inviare le nostre cripto possiamo andare ad occhi chiusi perché sappiamo già che funziona una volta impostata la sicurezza quindi in primis questo è quello che dovete fare siamo pronti per capire come acquistare le nostre criptovalute. Una volta aver verificato il nostro conto, aver attivato l'autenticazione a due fattori siamo pronti per depositare criptovalute da un altro wallet all'interno di Nexo la prima cosa che possiamo fare è proprio questa infatti come potete vedere se io vado all'interno della lista delle varie criptovalute su molte di queste criptovalute ho la possibilità di cliccare su top up ok? Ora come potete vedere la prima cosa interessante è che io posso capire essenzialmente già quali possono essere gli interessi sul depositare una determinata criptovaluta all'interno di Nexo questo cosa vuol dire? Vuol dire che io mi posso anche andare a regolare negli altri exchange se ho degli interessi più interessanti su Nexo e spostare appunto quella determinata cripto su Nexo ok? Quindi se io ho per esempio USDC su Celsius che mi dà l'8,5% e preferisco guadagnare il 12% ecco che per me ha senso spostarla all'interno di Nexo o su Crypto.com come abbiamo fatto vedere nel video apposito detto questo però un altro aspetto fondamentale da chiarire è che noi queste percentuali le possiamo guadagnare a seconda del livello che abbiamo e il livello aumenta possedendo il token ufficiale di Nexo il token ufficiale di Nexo potrebbe essere intelligente possederlo per tre motivi il primo è che potrebbe aumentare di valore io sono bullish magari su Nexo e sul suo token e quindi secondo me aumenta di valore il secondo motivo è che mi dà una percentuale alta il terzo è che mi aumenta le percentuali che io posso ottenere all'interno appunto di questa sezione ma questa è una cosa che vedremo tra poco immaginiamo di voler per esempio depositare bitcoin quello che io vado a fare è cliccare su top up e ho la possibilità subito di avere il mio indirizzo quindi lo copio e lo invio e un'altra cosa posso per esempio mettere il QR code come avete visto in questo caso e andare a scannerizzare l'indirizzo col QR code per evitare errori naturalmente devo stare molto attento ad inserire l'indirizzo corretto perché se sbaglio rischio di perdere le mie criptovalute quindi in questo caso mi dice invia solamente alla rete bitcoin se vado a selezionare per esempio USDC come potete vedere mi dà gli stessi dettagli ma cambia perché mi dice devi utilizzare la rete di Ethereum e RC20 se vado all'interno di DAI o anche sempre RC20 se vado su BNB ci dovrebbe essere anche la moneta ufficiale di Binance che mi dà un 8% che è più alto rispetto a Binance se non erro in questo momento mi dice che devo anche inserire un memo e allora io dico ok ho capito e mi chiarisce che l'unico modo per ricevere BNB è attraverso la rete Binance Chain e devo mettere anche questo memo quindi io andrò quando voglio ricevere le criptovalute su Nexo ad inserire l'indirizzo il memo, la Binance Chain e invio come sempre vi consiglio per evitare i propri errori di fare un piccolo test la prima volta dipende anche se avete costi di prelievo bassi oppure dei costi importanti lì varia naturalmente quindi dipende se potete inviare delle piccole somme oppure no ecco una volta che abbiamo capito naturalmente come poter andare a depositare le criptovalute da un altro exchange o comunque in generale anche da un Nex da un wallet ok a Nexo adesso è arrivato il momento di capire però come possiamo acquistare criptovalute con denaro reale la prima cosa che posso fare sempre cliccando su top up ho la possibilità ho l'opportunità di andare a cliccare su buy la criptovaluta di mio interesse in questo caso specifico naturalmente stiamo parlando di Bitcoin quindi io quello che posso fare è o acquistare la cripto con una carta ok oppure utilizzare il fiat balance quindi se io per esempio ho inviato euro all'interno del mio fiat balance posso acquistare in euro e mi ritrovo un controvalore di Bitcoin immaginiamo per esempio di avere 1000 euro vediamo adesso non abbiamo fondi ok quindi probabilmente non me lo fa vedere comunque io vado qui a inserire la cifra e qui mi darà essenzialmente quanto quanti Bitcoin riceverò per 1000 euro ok se vado invece a inserire la carta ecco che me lo dice subito perché qui mi dice non hai fondi qui invece posso andare un po' a vedere il tutto quindi immaginiamo di voler ricevere per esempio con USD così questa è una cosa che ci permette subito di chiarire quali possono anche essere le fee immaginiamo di voler andare ad acquistare 100 euro di USD ok e in cambio mi vengono date 98 USDC se io vado a vedere il preview ok qua mi dice di inserire la carta eccetera eccetera e poi mi dirà che in totale io devo andare a spendere 101 e 49 perché ci sono anche incluse le fee quindi in questo caso specifico poi vediamo le percentuali assieme delle fee se io avevo messo 100 e mi fa pagare 101 ecco che ritorniamo qui io significa che sto andando a pagare come fee un dollaro e 49 ok questo ripeto lo vediamo assieme quindi mi raccomando la cosa che dovete fare voi scegliere se volete pagare con carte quindi ripeto qui dovete andare a inserire poi i dettagli della vostra carta oppure andare a effettuare un bonifico nel fiat balance di vostro interesse quindi per esempio euro e poi poter comprare con euro tutte le cripto di vostro interesse queste sono le cripto che si possono andare ad acquistare con euro come posso depositare euro dollari all'interno del balance di nexo è molto semplice posso farlo sia dall'app andando a cliccare su buy crypto e poi posso andare a selezionare euro e quindi effetto bonifico oppure lo posso fare dall'exchange io ve lo faccio vedere dall'exchange in modo tale che sia abbastanza chiaro ma è uguale si può fare anche da app quello che faccio è trovare euro come potete vedere ho anche la sterlina e anche usd il dollaro clicco su top up ok e una volta fatto questo io traduco in italiano così è semplice comprendere un po' quello che c'è scritto innanzitutto anche qui mi dà la possibilità di guadagnare fino al 12% questa non è una cosa malvaggia ok e non accettano bonifici bancari da terzi quindi deve essere un bonifico effettuato da un conto che è intestato a voi ok assicurati che il nome beneficiario sia nexo altrimenti il tuo trasferimento sarà rimborsato assicurati che il riferimento fornito nel passaggio successivo sia incluso nel tuo bonifico bancaio poiché identifica la transazione con il tuo conto ok l'elaborazione ci dice che ci mette fino a un giorno lavorativo dopo il ricevimento dei fondi puoi ricaricare e prelevare euro in qualsiasi momento è accettato solo il bonifico SEPA il minimo di ricarica è di 1000 euro ok così vediamo già qual è il minimo dice che sarà ridotto comunque a breve quindi se voi volete prendere il bonus di 100 di 10 bitcoin 10 dollari in bitcoin dovete comunque per forza acquistare con la carta va bene il massimo di ricarica è 2 milioni di euro la commissione di ricarica è 0 euro quindi nexo non ha debita commissioni per i bonifici e poi vabbè qua ci dice per quanto riguarda dubbi e domande potete contattare l'assistenza fatto questo dobbiamo cliccare su capisco ecco quello che noi dobbiamo fare una volta che abbiamo cliccato su ok è andare ad inserire questi dati ok non sbagliamo quindi dobbiamo inserire il BIC lo SWIFT la reference che sarebbe la causale il nome della banca l'indirizzo della banca se la vostra banca magari ve lo chiede naturalmente il beneficiario dovete mettere nexo e dovete fare il bonifico a vostro nome ok da un vostro conto e l'IBAN naturalmente che è fondamentale una volta fatto questo ci vorranno i giorni della vostra banca che dipende da banca a banca e come ci ha detto nexo una volta che i fondi sono arrivati su nexo più o meno ci mette un giorno nel caso in cui comunque sbagliate qualcosa generalmente venite rimborsati quindi vi ritorna indietro il bonifico ok una volta fatto questo abbiamo i fondi all'interno del nostro account nexo e possiamo acquistare criptovalute anche per esempio con euro o dollari se preferite come posso invece vendere criptovalute all'interno di nexo? è molto semplice vado sempre nella sezione exchange in questo caso o nell'app nella sezione sell crypto e vado a cliccare appunto su vendi cripto e vado a selezionare la criptovaluta che ho a disposizione immaginiamo che ho un bitcoin ok qui mi dice naturalmente che non ce l'ho e posso ricevere o dollari o euro o sterline una volta fatto questo vi ricordo che poi noi possiamo decidere per esempio di acquistare altre criptovalute nel caso in cui abbiamo trasformato il tutto in euro, dollaro o sterlina oppure posso decidere di effettuare un bonifico e ricevere i fondi all'interno del mio conto corrente la terza opzione è quella di convertire fare lo swap delle nostre criptovalute quindi immaginiamo di avere bitcoin vogliamo trasformare bitcoin in un altro token e quello che vado a fare è cliccare su exchange cliccare su swap fatto questo posso passare da bitcoin a Ether, Nexo, XRP, Tether, USDC, PAX, DAI eccetera eccetera BNB e così via quindi comunque ho la possibilità di convertire in diverse criptovalute vado a selezionare un'altra cripto quindi immaginiamo di avere a disposizione BNB ecco che BNB la posso trasformare in tutte queste criptovalute ok? naturalmente anche in questo caso specifico ci sono delle fee che poi io vado a pagare quando effettuo questi swap però comunque è una possibilità, un'opportunità che mi metto a disposizione Nexo se invece voglio trasferire le mie criptovalute in un altro portafoglio in un altro wallet magari voglio sfruttare il bonus di Celsius che mi permette di guadagnare 110 dollari in bitcoin come abbiamo fatto vedere nel video di Celsius e io qua mi ritrovo magari 1000 dollari di bitcoin che voglio trasferire quello che vado a fare è cliccare su withdraw ok? naturalmente qui mi dice prima di andare a selezionare top up per poter caricare i bitcoin quindi devo prima fare questo comunque nel caso in cui ho la mia cripto quello che succede è che avrò la possibilità di andare ad inserire appunto l'indirizzo, il wallet e la rete naturalmente nel caso specifico in cui un wallet mi chiede una rete specifica in questo caso dipende però dove noi abbiamo le nostre cripto faccio un esempio banalissimo ok? per capirci BNB sappiamo bene che potrebbe essere sia nella rete di Binance Chain sia nella Smart Chain ok? quindi se su Nexon non c'è la Smart Chain e Celsius ha la Smart Chain io naturalmente da questo punto, vi sto facendo l'esempio di due reti ok? da questo punto di vista devo fare un passaggio ulteriore ok? quindi passare magari BNB su Binance e poi da Binance a Celsius nel caso in cui non si può fare attenzione nel caso in cui invece si può fare lo andiamo a fare quindi l'importante ripeto è sempre andare a inserire l'indirizzo corretto andare ad inserire la rete corretta nel caso in cui c'è un memo il memo ok? perché così non rischiamo di perdere le nostre criptovalute ok? quindi è abbastanza semplice adesso ripeto non lo fa vedere perché non abbiamo fondi in questo momento però è inutile che vi faccio vedere come inviare criptovalute in quanto ve lo abbiamo già fatto vedere in tantissimi altri video ma è uguale a quello che abbiamo fatto qui cioè noi dobbiamo inserire l'indirizzo e nel caso in cui ci chiede il memo il memo è la rete tutto qui quali sono i limiti del conto Nexo? innanzitutto dobbiamo verificare il nostro conto ok? una volta fatto questo questi sono un po' i limiti che noi abbiamo sia dal punto di vista delle cripto sia dal punto di vista del trasferimento bancario ok? innanzitutto abbiamo sia per quanto riguarda la linea di credito sia per quanto riguarda il wallet totale il top up è illimitato il withdraw invece è di 500.000 dollari al giorno e 2 milioni di dollari al giorno per quanto riguarda il withdraw nella sezione credit line per quanto riguarda invece il trasferimento bancario abbiamo comunque un limite di 2 milioni di euro ok? per entrambe le voci e il withdraw ce l'abbiamo di 100.000 al giorno per quanto riguarda il trasferimento bancario del nostro wallet e per quanto riguarda la linea di credito sempre 2 milioni di dollari adesso però cerchiamo di capire come funziona la sezione dei livelli prima di vedere nel dettaglio magari il discorso delle fee perché molte vengono mostrate appunto nella sezione loyalty levers ed eccoci nella sezione loyalty levels di Nexo ci sono 4 livelli abbiamo il livello base il livello silver il livello gold e il livello platinum per poter aumentare di livello dobbiamo aumentare la percentuale di Nexo che è token che possediamo all'interno del portafoglio ok? è quello che vi avevo fatto vedere precedentemente in questo caso mi dice che non ho Nexo ma questo è un portafoglio creato ad hoc per questo video e quindi di conseguenza capite bene che sono allo 0% immaginate che vado ad acquistare come primo token Nexo io mi ritrovo già a livello platinum per capirci ok? ora cosa vuol dire questo? vuol dire che per poter avere i vantaggi del livello platinum se io ho 1000 dollari di bitcoin devo avere almeno 100 dollari di Nexo questo è il significato e quindi in totale dovrò avere in questo caso specifico per arrivare al 10% su 1100 sia almeno 100 dollari qualcosina in più forse 110 per arrivare al 10% ora non voglio fare il calcolo preciso però comunque ve lo dirà qui quindi vi regolerete a un certo punto a quale percentuale siete e quindi potrete fare un piccolo calcolo per capire quanti token vi servono per avere questa percentuale vi ripeto Nexo può essere interessante per i tre aspetti che vi ho mostrato precedentemente ora per fare l'upgrade come potete vedere quello che mi farà fare è swappare la mia cripto in Nexo o altra cosa che posso fare è andare ad acquistare naturalmente in questo caso specifico Nexo il Nexo token va bene? io ritorno sempre nella sezione precedente dove ci sono i livelli eccoci qua e vediamo quali sono le differenze le differenze sono in primis per quanto riguarda le percentuali nel caso vi voglio subito far vedere iniziamo dal discorso borrovo e poi vi spiego come possiamo richiedere i prestiti vi spiego come possiamo mettere in staking le criptovalute gli scambi ok e così via allora per quanto riguarda il long to value elevato abbiamo un interesse del 13,9% livello base 6,9% livello platino cambia perché è la metà ok? per quanto riguarda invece il basso io credo che qui non ci fa vedere per il semplice fatto che probabilmente dipende da cripto a cripto ok? perché comunque è normale che ci deve essere anche nel long to value basso una percentuale di interesse ma come potete vedere addirittura qui ce l'abbiamo nello 0% e può essere una cosa veramente importante interessante poi se noi andiamo a utilizzare Nexo exchange e vogliamo ottenere il cashback perché noi quando utilizziamo lo swap quindi vado qui nella sezione scambio e vado in questo caso specifico ok? io traduco in inglese sempre perché l'italiano lascia il tempo che trova la traduzione la traduzione se io vado a effettuare appunto degli acquisti o comunque all'interno di tutta la sezione exchange ho un tasso di interesse un ritorno dal cashback del 0% livello base 10% livello silver 50% dal livello platinum capite bene che questo può essere molto interessante soprattutto se io inizio ad utilizzare spesso la sezione exchange di Nexo quindi compro e vendo criptovalute nel caso in cui invece metto all'interno della sezione earn ok? quindi significa che io metto la mia cripto o la mia stable coin o la mia il mio euro per esempio il mio dollaro a generare interessi ecco che qui cambia tutto sensibilmente a seconda del livello che ho capite bene che io con il livello platinum ho la possibilità addirittura di mettere l'euro e avere un 6% dall'euro che mi permette di combattere l'inflazione in qualche modo ok? quindi potrebbe già essere interessantissimo fare questo cioè io vado a prendere appunto il i miei euro li metto qui ora sinceramente non so quindi questo è un test che dovete fare dato che comunque se volete poi aumentare di livello platinum dovete comprare Nexo non so se il livello del 10% comprende tutto quello che avete nel vostro portafoglio solo le criptovalute perché a questo punto io posso mettere euro creare un conto dove metto solo euro carico un po' di next token e ho subito il 10% anzi il 100% perché capite bene che mi ritrovo poi all'interno del mio conto come token solamente Nexo ma lo sto facendo perché io voglio avere l'interesse sull'euro ok? quindi questa è una cosa importante però questo è un test che dovete fare voi detto questo ok? perché noi qui siamo bullish sulle cripto e compriamo cripto le fiat come euro e dollaro usiamo solo per poter poi acquistare le nostre cripto detto questo guardate cosa succede sulle criptovalute abbiamo un ritorno un interesse che va dal 4% per quanto riguarda il livello base fino al 5% per quanto riguarda il livello platinum le euro dollaro e sterlina dal 4% al 6% stablecoin dall'8% al 10% nexo token sempre 7% e poi una cosa molto importante che ci fa aumentare sensibilmente il guadagno se noi guadagni invece di ottenerli nella stessa criptomoneta quindi abbiamo messo solana per esempio e vogliamo ottenere solana invece di ottenere solana o bitcoin facciamo l'esempio con bitcoin io voglio ottenere nexo allora nel livello base non cambia niente ma se vado per esempio ad essere platinum quello che succede è che è un 2% e allora se ho una stablecoin come USDC ho 10% più 2% ed ecco che arrivo al 12% se invece metto USDC classico livello base non voglio nexo e anche se lo volessi comunque lo 0% mi ritrovo un 8% di ritorno che non è malvagio quindi quello che cambia in questo caso è una percentuale del 4% poi ogni criptomoneta ha delle percentuali diverse e ne vediamo alcune assieme nel dettaglio tra pochissimo gli ulteriori bonus sono partecipare alla governance quindi le decisioni e quindi in questo caso ce l'abbiamo sempre ok e poi abbiamo la possibilità di avere i prelievi gratuiti da nexo verso un altro exchange in questo caso con livello base ne abbiamo 1 al mese con livello platinum ok ne abbiamo 5 al mese ok traduco sempre per farvi vedere un po' il tutto e questa è una cosa molto 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 interessante perché 5 prelievi gratuiti ci permettono comunque di spostare le cripto su exchange che ci danno la possibilità di avere determinati bonus ok quindi infine qua mi dà il totale e poi come sempre se io clicco su aggiorna mi porta nella sezione dove appunto poi devo andare a comprare il token nexo andando poi qui all'interno della sezione dove ci fa vedere i tassi di interesse della sezione earn capiamo quanto possiamo guadagnare abbiamo dal livello base a livello platinum come potete vedere ci sono diverse cripto e poi c'è il resto delle cripto le stable coin e poi le fiat guardate cosa succede la differenza tra avere appunto il livello base con avax che ci dà il 12% e il platinum dove addirittura avax ci dà il 14% vi ricordo che se noi poi attiviamo il bonus in nexo quindi invece di ottenere avax otteniamo nexo abbiamo pure questo 2% cosa che nel livello base non c'è inoltre aspetto molto importante da non sottovalutare ok e guardate quello che succede se io vado per esempio a impostare il 6% per euro più il 2% invece di prendere euro prendo il token nexo quindi ho un 8% se lo blocco di solito un mese quindi io per un mese non posso toglierlo dallo staking ok io arrivo addirittura praticamente al 12% che è altissimo se ci pensate ok addirittura sul nexo sul token nexo se io vado a bloccarlo ho un 5% quindi arrivo al 12% va bene quindi in totale quello che succede è che se voi avete bitcoin con livello base guadagnate 4% poi l'1% per quanto riguarda lo staking bloccato ok vediamo qui al volo sopra il limite invece abbiamo un 1% sì infatti no sopra il limite credo che intendano se noi superiamo il limite di bitcoin che possiamo andare ad inserire eccolo qui sì infatti vedete 50.000 dollari quindi se io vado a mettere in stake 49.000 dollari di bitcoin ho il 4% con livello base più l'1% se lo blocco per un mese al 5 se invece ho il livello platinum io ho il 5% ok il limite in questo caso specifico addirittura aumenta a 10 milioni di euro quindi fino a 9.999.000 lo posso mettere avrò il 5% se supero avrò il 2% il 5% più il 2% di nexo bonus se attivo il bonus nexo quindi arrivo al 7% se lo blocco ho l'8% ok che può essere molto interessante un 8% su bitcoin rimanendo bullish sull'ecosistema bitcoin è una cosa molto 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 interessante ok nexo come vi dicevo invece abbiamo un 12% qui ne abbiamo anche altri quindi basta vedere la cripto di vostro interesse e poi fare una differenzazione tra questa cripto ok all'interno di nexo e gli altri exchange per capire dove ha senso mettere in stagging una determinata cripto valuta adesso vediamo al volo come possiamo mettere in stagging nella sezione earn le nostre cripto valute la prima cosa che dobbiamo fare vi ricordo è caricare il conto e acquistare cripto valute oppure depositare cripto valute questo account di test non ce li ha ma ho preparato degli screen che vi fanno vedere un po' quello che dobbiamo fare quindi io clicco su manage wallet per andare a gestire appunto il mio wallet qui mi dice come potete vedere di caricare il conto o acquistando bitcoin o depositando bitcoin io naturalmente se ho già bitcoin per esempio mi ritrovo in una schermata come questa ora posso utilizzare o il metodo che vi ho spiegato quello dove noi non abbiamo essenzialmente lo staking bloccato in qualsiasi momento possiamo riprendere i nostri bitcoin e quindi cliccare qui oppure bloccare i nostri bitcoin per avere un 1% in più mentre sto registrando questo video e andiamo naturalmente a avere bloccati per un mese questi bitcoin per poter avere tutti gli interessi se io voglio bloccare i miei bitcoin per un mese perché sono estremamente bullish clicco sulla voce qui in basso e come potete vedere vado a impostare in automatico l'1% in più visto che ho lo staking bloccato di un mese vado a selezionare il totale dei miei bitcoin decido se voglio che ci sia un rinnovo automatico quindi spunto questa voce e in automatico non devo stare lì a ricordarmi che tra un mese scade e continuerà sempre così e poi vado a creare i termini nel caso in cui invece io volessi andare a impostare uno staking quindi andare a guadagnare senza lo staking bloccato seleziono invece la prima voce e come potete vedere qui ho sempre la possibilità di impostare i fixed terms posso tra le altre cose decidere di aumentare di livello qui c'è un livello gold e posso fare l'upgrade per avere degli interessi più alti e in più posso come vi farò vedere anche dopo impostare i guadagni in exo per avere un 2% ed essenzialmente uguale a questa sezione qui solo che non avrò l'1% in più e metto nella sezione earn appunto i miei bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta di mio interesse quindi essenzialmente la procedura si attiva da questa sezione qui ora sapete benissimo che questi wallet e questi exchange nel corso del tempo variano anche quella che è la grafica da app si vede diversamente capite bene che basta un po' andare a muoversi all'interno dell'exchange o dell'app e vedere dove si trova la voce relativa alla sezione earn ma ci cliccate sopra andate qui si trova facilmente e quindi l'unica cosa era capire qual è la differenza tra lo staking bloccato e lo staking normale poi la procedura di solito è sempre abbastanza semplice se invece vogliamo guadagnare con exo abbiamo il programma invita un amico dove abbiamo il nostro url abbiamo il totale di amici invitati a questo programma referral e naturalmente noi possiamo guadagnare 10 dollari in bitcoin se il nostro amico va a caricare 100 dollari o di più all'interno di nexo e poi può utilizzarli per esempio per acquistare criptovalute naturalmente l'equivalente di 100 dollari può essere anche qualcosina in meno di un euro ma se per esempio anche voi per prendere il bonus di benvenuto andate a caricare 100 euro all'interno di nexo ecco che avete sbloccato 10 dollari in bitcoin e quello che potete fare poi è prendere il vostro codice referral invitare i vostri amici che fanno la stessa identica cosa e prendete voi un bonus di 10 dollari in bitcoin e i vostri amici un bonus di 10 dollari in bitcoin nella sezione settings impostazioni possiamo decidere se vogliamo ottenere i nostri interessi in nexo avere questo 2% se abbiamo il livello platinum oppure vogliamo ottenere gli interessi con la stessa identica criptomoneta poi altri due aspetti fondamentali se noi vogliamo automaticamente trasferire un collaterale quando otteniamo un prestito tra poco vi faccio vedere anche la sezione relative ai prestiti questa può essere molto interessante se la teniamo abilitata in quanto se noi per esempio abbiamo ottenuto un prestito di usdc mettendo come collaterale bitcoin va bene quindi io voglio ottenere 1000 dollari di usdc perché ho delle percentuali di interesse più alte se vado a fare cose con usdc e devo dare 2000 euro di bitcoin vi faccio un esempio banalissimo nel caso in cui bitcoin diminuisce troppo di valore il mio rischio è quello che il loan to value aumenta e quindi io vengo liquidato quindi significa che vado a pagare una penale per poter evitare questo cosa dobbiamo fare generalmente dobbiamo aggiungere altro collaterale quindi altri bitcoin visto che è diminuito di valore in modo tale da non essere liquidato tanto io so che poi bitcoin aumenta di valore quindi è una cosa che faccio senza problemi questo questa funzione di next ci permette in automatico di fare questo così se noi abbiamo per esempio sul nostro wallet 50.000 euro di bitcoin ma avevamo solo chiesto 2000 euro di bitcoin a mano a mano che bitcoin diminuisce di valore se serve vengono aggiunti bitcoin al prestito che poi noi possiamo sbloccare quando bitcoin aumenta di valore naturalmente ok però così non veniamo liquidati e quindi non paghiamo una penale altra cosa importantissima se attiviamo questa funzione quando noi abbiamo per esempio sempre questi bitcoin messi come collaterale all'interno di un prestito di usdc e succede che magari la restante parte dei bitcoin invece l'abbiamo messi in staking con quelle percentuali che vi ho fatto vedere prima però uno staking bloccato quindi significa che io per un mese non li posso toccare comunque onde evitare di andare a pagare la penale qui cosa succede che io dico all'oracolo di nexo di fregarmene del fatto che ho lo staking bloccato di prendere questi bitcoin dallo staking bloccato e metterli qui io qui perdo gli interessi che avevo maturato quindi tutto quello che ho guadagnato lo perdo però almeno qui non perdo il prestito e soprattutto non pago la penale e non vengo liquidato e molto spesso conviene di più fare così perché tra il perdere il prestito e pagare la penale magari la penale mi costa di più ok quindi questo mi permette di copermi nel caso in cui ci sono delle cose che non stanno andando all'interno del mercato poi abbiamo la carta ufficiale di nexo molto interessante la possiamo richiedere andando nella sezione nexo.io slash nexo trattino card il 2% di cashback possiamo spendere in oltre 40 milioni di merchants in tutto il mondo abbiamo come dicevo anche la possibilità tra le altre cose di avere le carte virtuali aggiuntive gratuite pagamenti in valute locali andiamo qui in basso vediamo altre cose interessanti possiamo prendere prestiti a tasso di interesse del 0% perdonate la traduzione cerco sempre di farvi leggere le cose in italiano ma sarebbe l'APR probabilmente le commissioni risparmiamo fino a 20.000 euro al mese possiamo ricevere fino a 10.000 euro in prelievi a TM al mese non male si può connettere con Apple Pay e Google Play il discorso delle carte virtuali l'abbiamo già detto molto interessante il cashback ce lo ritornano in token e nexo o bitcoin ok quindi comunque un po' come su cripto.com che il cashback ce l'abbiamo poi in crow ok portafoglio sicuro per spendere le tue valute le tue criptovalute e per poter naturalmente richiedere la carta dobbiamo cliccare su ottieni la carta in anticipo perché questa è una fase probabilmente beta noi ancora non l'abbiamo chiesta ma lo faremo così magari ci faremo un video apposito e quindi qui dobbiamo inserire il nome e l'indirizzo di posta elettronica vi consiglio naturalmente di inserire il nome e l'indirizzo di posta elettronica del vostro account ufficiale nexo e quindi poi potete naturalmente fare la richiesta vi consiglio di farla soprattutto se avete intenzione di utilizzare nexo analisi ufficiale del token nexo come potete vedere è il token ufficiale dell'app di nexo dell'exchange di nexo in questo momento sta a 1 euro e 99 e in dollari 2,25 quello che ha fatto l'ultimo anno è proprio questo partiva da 75 centesimi di dollaro più o meno 50-60 centesimi di euro e praticamente se andiamo a vedere quello che è stato il massimale di sempre abbiamo avuto un massimale di 4 dollari e 63 questo vuol dire che in questo momento acquistare nexo ci permetterebbe il token di andare a raddoppiare il capitale nel caso in cui raggiungessi il massimale tra le altre cose abbiamo avuto questi due picchi che ci fa capire che comunque lo può rifare perché chi ha comprato qui ha comprato a un prezzo molto più basso di quello che abbiamo attualmente e poi è risalito senza problemi ha toccato il suo massimale ora una cosa importantissima è che se noi vogliamo utilizzare nexo utilizzare gli interessi potrebbe essere interessante acquistare il token proprio ora perché perché se il token è un aumento di valore significa che quella percentuale se io oggi ho tot token e nexo che rappresentano il 5% del mio portafoglio se raddoppio il valore rappresenteranno più o meno il 10% poi dipende anche dagli altri token però comunque capite bene che può essere interessante sia in termini di guadagni sia in termini naturalmente di andare a impostare il portafoglio secondo quelli che sono i livelli di mio interesse come abbiamo già visto precedentemente tra le altre cose comunque di solito i token ufficiali di piattaforme e di exchange ufficiali possono comunque crescere nel corso del tempo soprattutto se queste piattaforme vengono utilizzate e generalmente vengono utilizzate perché sono le piattaforme parliamoci chiaro più semplici da usare per gli utenti inesperti che non vanno nel mondo decentralizzato ma riescono a spostarsi magari tra gli exchange centralizzati e vanno dove ci sono gli interessi più alti come prendere in prestito valute fiat o stablecoin all'interno di nexo con le nostre criptovalute come bitcoin etero eccetera eccetera dobbiamo andare nella sezione borrow in questa sezione possiamo prendere in prestito cash o stablecoin ora noi dobbiamo caricare il conto per poter fare tutto questo infatti ci dirà di fare il top up delle cripto andiamo all'interno della sezione di gestione del portafoglio come vi avevo fatto vedere precedentemente e ci ritroviamo in questa pagina immaginiamo di voler prendere un prestito attraverso i nostri bitcoin lo possiamo fare perché si fa il borrow perché si chiede in prestito perché se bitcoin a me mi dà il 3% faccio sempre questo esempio di ritorno ok immaginiamo che bitcoin mi dà il 5% di ritorno dal fatto che io lo metto magari nella sezione R non faccio altre operazioni ma ci sono stablecoin come OSDC che mi danno il 12% ok capite bene che ho un 7% in più quindi uno potrebbe dire allora che compra a fare bitcoin compri OSDC e ho un ritorno più alto sì però bitcoin è una criptovaluta volatile che nel corso del tempo può anche aumentare di valore quindi io sono bullish su bitcoin non mi voglio vendere bitcoin lo voglio possedere allora che faccio metto come collaterale in un prestito quindi io dico voglio 1000 euro vi parlo in euro ok di OSDC però per avere questo prestito io metto come collaterale quindi come garanzia tot bitcoin quindi io vi lascio questi bitcoin che sono i miei quindi poi quando io vi ritorno i 1000 euro di OSDC me li dovete ritornare va bene quindi voi mi ritornate i miei bitcoin ma nel frattempo però mi sto facendo un 12% che è più alto del 5% che mi da bitcoin che poi certe volte le percentuali le differenze sono molto più alte ok e allora io vado qui e devo andare naturalmente a richiedere il mio prestito ora vado nella sezione di next dove ci spiego un po' come funziona il borro in primis non ci sono P per poter richiedere il prestito inizialmente ci dice che c'è naturalmente i prestiti partono da uno 0% di APR perché noi quando richiediamo un prestito naturalmente abbiamo degli interessi da pagare partono dallo 0% ok e possiamo richiedere in prestito da 50 dollari fino a 2 milioni di dollari ok per fare borro ma naturalmente dobbiamo andare in questa sezione vediamo un attimino nel dettaglio però ora la traduco in italiano così riuscite a vedere un po' meglio il tutto le caratteristiche dei prestiti di next chiariamo subito una cosa lo 0% si paga se abbiamo il livello gold o platinum perché possiamo arrivare per quanto riguarda le tariffe del prestito fino al 13,9% di interessi cosa vuol dire questo vuol dire che se io sono platinum sugli interessi più alti quindi un loan to value alto abbiamo il 6,9% se sono se è un loan to value basso 0% poi come potete vedere qui abbiamo 13,9 12,9 io credo che questo trattino sia a priori va bene quindi al di là che sia alto o basso abbiamo questa percentuale che andiamo a pagare ritorniamo sempre in questa pagina è una cosa importantissima da chiarire è proprio questo che cos'è il loan to value il loan to value è il rapporto tra la criptovaluta che io vado a prendere o la valuta fiat e il collaterale che vado a inserire vi faccio subito un calcolo per farlo capire immaginiamo che io prendo 1000 euro anzi 1000 dollari di USDC va bene che è una stable coin e in cambio però nexo mi dice guarda se tu vuoi prendere USDC mi devi dare almeno un controvalore di 1500 dollari di bitcoin quindi io faccio 1000 diviso 1500 ok il risultato 0,66 lo devo moltiplicare per 100 e il loan to value del mio prestito sarà il 66% io se e quindi cosa vuol dire che se il 66 si abbassa stiamo bene perché vuol dire che non supero il loan to value se questo 66% si alza rischio di essere liquidato va bene generalmente quando si chiedono i prestiti cosa voglio dire con questo che se io per esempio avevo preso 1000 euro di USDC e bitcoin cala di valore e mi ritrovo da 1500 1200 ok quindi sono arrivato ad avere 0,83 lo moltiplico per 100 io ho un 83% di loan to value probabilmente vengo liquidato generalmente nei prestiti quindi devo stare attento su queste criptovalute volatili come bitcoin che se diminiscono troppo di prezzo potrei andare a perdere questo prestito e essenzialmente non è che io perdo tutti i soldi ma devo pagare una penale tutto qui va bene ora la cosa straordinaria di Nexo è che ci dice puoi avere questo 0% sugli interessi sui loan to value bassi puoi comunque avere un'approvazione immediata a differenza del fatto che io voglio credere un prestito e non lo posso fare generalmente nel mercato tradizionale cioè io ho bitcoin ho bisogno di comprare di fare un'operazione in quel momento magari ho una casa che posso comprare a 100.000 euro e la posso rivendere dopo un mese a 150.000 però non ho nessuno che accette i miei bitcoin perché tre anni fa avevo comprato tre bitcoin a 1000 euro e capite bene che io praticamente metto questi bitcoin come collaterale mi danno i 100.000 euro io pago questa casa faccio 150.000 100.000 li rimetto su Nexo mi riprendo i miei bitcoin e ho guadagnato 50.000 euro questo è il senso di richiedere un prestito ok è geniale come cosa quando abbiamo delle opportunità ci sono 40 valute fiat e poi possiamo prendere in prestito anche usdt o usdc dove possiamo portarli poi nel decentralizzato e fare guadagni incredibili tipo io posso prendere i miei usdc li trasformo in usd li metto su terra come vi ho fatto vedere su un video su anchor protocol e mi da il 20% e lì diventa interessante ok e quindi io vado poi a combattere anche l'interesse il tasso di interesse che vado a pagare supportato a più risorse nessuna rata paga il tuo saldo parzialmente o completamente quando vuoi senza un programma di pagamento fisso rimborso facile scegli tra fiat cripto una combinazione di asset come potete vedere in totale ci sono 6 miliardi di euro di prestiti di dollari di prestiti che sono stati effettuati 3 milioni di utenti in ex in tutto il mondo 40 valuti 200 giurisdizioni eccetera eccetera ora naturalmente vi ricordo che lo 0% dipende dal livello che noi raggiungiamo se volessimo sapere al volo a quanto corrisponde il collaterale che dobbiamo inserire per poter avere in prestito per esempio 10 mila dollari vi ricordo che possiamo ricredire anche stablecoin ci basta andare in questo tool che ci dice allora guarda se io ti do 10 mila dollari di prestito tu mi devi dare 0,47 bitcoin con un loan to value del 50% se io vado ad analizzare su coinmart cap il valore attuale di bitcoin 0,47 bitcoin equivalgono a 19.721 dollari quindi questo significa che io sto per 10 mila dollari dando il doppio del valore del mio bitcoin qui ci da dei loan to value classici perché sono quelli che generalmente si possono usare per tra virgolette stare tranquilli però sappiamo bene che nel mondo delle criptovalute è complicato soprattutto se andiamo ad utilizzare asset volatili vedete Solana con un 30% in questo caso perché secondo loro Solana è un po' più stabile di bitcoin per poter avere 10 mila dollari devi darci 245 Solana se invece vado a mettere per esempio una stable coin come USDC che è ancorata al valore del dollaro quindi un SDC vale un dollaro in questo caso ho un loan to value altissimo del 90% ma perché se qui 10 mila dollari sono in dollari 11.112 USDC sono 11.112 essenzialmente dollari perché è ancorata al dollaro dovrebbe succedere che succede qualcosa di grave ma possiamo sempre aggiungere collaterale in questo caso il mio collaterale non il mio prestito che vado a pagare sarebbe di 1100 USDC in più ma ripeto se io so che posso fare un'operazione per me ha senso nel caso in cui volevo fare quell'operazione che vi ho detto prima cioè di prendere in prestito 100 mila dollari perché devo comprare un appartamento da rivendere a 150 ecco che io devo dare 111 mila USDC che ha molto senso farlo se so che l'operazione poi va a buon fine ok quindi essenzialmente è abbastanza semplice capire poi il discorso del non to value e del fatto che comunque io devo dare un collaterale per prendere questo prestito però ripeto fatelo nel momento in cui ha senso farlo cioè se voi vedete che le percentuali di ritorno per quelle che sono le operazioni che voi andate a fare sono percentuali di vostro interesse e in più dovete naturalmente essere consapevoli che il collaterale che state andando a mettere non vi possa portare a una liquidazione e quindi a pagare una penale per poter richiedere un presito su Nexo vi ricordo che dovete trasferire i vostri token le vostre criptomonete dal wallet ufficiale dove avete i vostri asset all'interno del wallet credit line wallet dal pulsante qui in basso una volta fatto questo potete andare a richiedere il prestito scegliendo cosa volete ottenere come prestito mettendo il collaterale scegliendo il loan to value e una volta che per voi è tutto ok andate a cliccare sul pulsante e vi ritroverete una schermata come questo dove dice ok hai ottenuto 6200 SDT questo è un esempio se volete un tutorial passo passo per non allungare troppo questo tutorial non l'abbiamo fatto relativo al borro e quindi come richiedono un presito sul Nexo fatecelo sapere nei commenti abbiamo anche la possibilità di sbloccare tra pochissimo la sezione di voto della governance dove possiamo prendere le decisioni più importanti per quanto riguarda l'ecosistema Nexo e il token ufficiale di Nexo quindi questa probabilmente la vedrete sbloccata nei prossimi mesi o magari nelle prossime settimane facciamo invece una piccola panoramica dell'app in modo da capire come funziona ma vi ricordo che abbiamo più o meno le stesse funzionalità solo che quello che possiamo fare all'exchange lo facciamo anche dall'app in primis questa è la dashboard dove all'interno possiamo vedere un po' tutti i dettagli del nostro portafoglio e qui in alto abbiamo tutte le funzionalità tra cui tra poco vedremo anche questa nuova funzionalità inserita all'interno di Nexo cliccando naturalmente qui in basso abbiamo la possibilità per esempio di andare nel wallet e quindi di conseguenza vedere le criptovalute che possediamo oppure cliccando sul pulsante più abbiamo subito la possibilità di caricare il conto di prendere un prestito o di trasferire le nostre criptovalute detto questo sulla sezione card possiamo richiedere la carta ne abbiamo già parlato cliccando qui in alto invece sul domino possiamo aggiungere accedere al nostro profilo e quindi possiamo accedere alle varie sezioni che abbiamo già visto precedentemente come invitare un amico verificare il livello vedere a che livello per quanto riguarda i limiti che noi abbiamo il livello invece per quanto riguarda le percentuali eccetera eccetera la sezione di voto le impostazioni dell'account la sicurezza e così via nella pagina invece relativa all'exchange possiamo naturalmente andare a acquistare criptovalute con la carta per esempio oppure convertire da una cripta a un'altra quindi fare tutte le operazioni che abbiamo già visto e poi abbiamo la sezione booster Nexo booster 3x che ci permette di ottenere un controvalore di una criptovaluta andando a inserire naturalmente una nostra cripto di partenza con un leverage del 3x ok massimo 3x perché Nexo ci ha detto essenzialmente che oltre non vuole andare in quanto siccome molti degli utenti che vanno a operare all'interno di Nexo sono persone che potrebbero anche farsi prendere dalla FOMO potrebbero perché ci sono piattaforme che ti fanno fare anche un 125x per capirci il rischio aumenta perché essenzialmente cosa significa questo significa che io vado in questa sezione su exchange clicco su booster 3x seleziono l'asset di partenza e seleziono cosa voglio ricevere e poi posso scegliere un leverage che va dall'1,25x a 3x e posso decidere se mettere naturalmente tutto il 25% il 50% o il 100% del mio asset ok che sarebbe quello che io ora qui vi sto facendo vedere degli esempi così al volo e quindi io per esempio posso mettere Ethereum per ricevere Bitcoin Dine per ricevere Bitcoin possono cambiare quelli che si ricevono vi faccio vedere quali si possono ricevere intanto possiamo pagare con Dye Bitcoin Cash Lightcoin EOS BNB Solana Avalanche Matic eccetera eccetera vedete Bitcoin USDC possiamo anche ricevere questi quindi il controvalore che noi possiamo ricevere è EOS BNB Stellar Pax Chainlink Tron Cardano Polkadot naturalmente Bitcoin Ethereum eccetera cosa vuol dire andare quindi ad inserire una criptovaluta e poi ricevere un controvalore che io in questo caso specifico posso al massimo mettere un Bitcoin per esempio vi faccio l'esempio che io voglio aumentare la mia esposizione in Bitcoin senza però naturalmente poter andare ad acquistare altri Bitcoin e quindi è un rischio che mi permette di guadagnare di più come di rimetterci molto più facilmente ok io qui metto un Bitcoin e se metto un leverage del 3x posso prendere al massimo altri 2 Bitcoin per arrivare a 3 ok quindi io al massimo arriverò ad avere nel mio portafoglio poi dove posso fare operazione all'interno di in questo caso specifico Nexo 3 Bitcoin la formula per calcolare il leverage così chiariamo questo aspetto è la seguente io devo aggiungere il mio asset in questo caso 1 e il Bitcoin faccio ancora più uno zoom perché magari si vede meglio ecco qui 1 più gli asset che sto prendendo in questo caso in prestito con l'Everage che sono 2 Bitcoin e per arrivare a 3 naturalmente in questo caso specifico diviso 1 che 1 è sempre l'asset che io ho quindi devo essenzialmente fare l'asset che io ho più l'asset che prendo in prestito mi fa una somma lo divido per 1 lo divido per l'asset che io ho di nuovo e mi esce un risultato questo risultato è 3 ecco la formula utilizzata quindi essenzialmente io al massimo posso prendere in prestito altri 2 Bitcoin per arrivare a 3 ora se io vado all'interno del blog ufficiale di Nexo dove ci spiega appunto il lancio di questa nuova funzione vedete è stata lanciata il 17 gennaio quindi da pochissimo poi dipende quando state guardando voi il video io vado a tradurre anche un attimino posso ottenere un effetto leva che va dall'1,25 a 3 volte la leva del tuo portafoglio completamente garantito perché posso avere un Leon2Value consentito fino al 70% vi ho già spiegato cos'è il Leon2Value e come richiedere i prestiti e poi tra le altre cose queste sono tutte le valute che io ho e posso avere fino allo 0,5% di cashback sulla transazione del booster quindi mi ritornano anche un cashback posso richiedere al massimo 250.000 dollari per transazione quindi il controvalore e poi tra l'altro quando io vado a richiedere questo booster mi viene calcolato passo passo tutto quello che succederà quindi qual è la mia posizione quanto vado a guadagnare come funziona un po' anche quello che è il rischio eccetera eccetera non voglio entrare troppo nel dettaglio perché qui ci sarebbe un discorso di andare a capire che cos'è il leverage che già vi ho spiegato come si va a calcolare come poi va a influenzare il nostro portafoglio la cosa che vi voglio dire naturalmente in questo caso specifico è fatelo se siete utenti esperti perché se siete utenti esperti quello che vi ho già detto andando anche all'interno di questa pagina è chiaro non c'è bisogno di capire nient'altro se non alcune altre voci che vediamo assieme se siete utenti inesperti vi consiglio di capire meglio come funziona il mondo del leverage del margin trading il loan to value tutte queste voci come chiedere prestiti informatevi su questa cosa lo potete fare sia sul nostro canale sia su google stesso cercate di trovare un sacco di articoli anche in inglese quelli che vi consiglio spesso di leggere perché le fonti ufficiali vengono sempre da lì poi naturalmente esistono tre diversi livelli di tariffa che noi andiamo a pagare per questo booster determinati dal tuo loan to value potrai vedere la commissione che ti verrà debitata nella sezione dopo l'acquisto prima di finalizzare la trastazione del booster se io chiedo un loan to value inferiore al 50% pago solo l'1% però considerate una cosa un loan to value inferiore al 50% sto andando a triplicare la mia esposizione a un determinato asset perché se ho un bitcoin e ne prendo altri due consideriamo che io vado sempre a fare operazioni rischiose di prestito e quindi in questo caso un 3x ok il loan to value 60-70% mi costa il 3% però d'altro canto io posso avere un ritorno da tutto quello che vado a fare all'interno di Nexo che mi permette di poter sopperire a questo 3% quindi non è tanto il 3% ok è tanto questo la volatilità dell'asset stesso va bene qui comunque all'interno di questa sezione spiega un po' come funziona il tutto e quindi io vi consiglio naturalmente di andare a effettuare anche dei test investendo pochi pochi decine di euro magari inizialmente se ve lo permette di fare Nexo Booster in quanto noi personalmente se è una cosa nona l'abbiamo ancora testata questa cosa magari faremo un video apposito e fateci sapere se volete anche un video apposito su Nexo Booster magari faremo un tutorial se arriviamo a un numero di commenti tali da spingerci a fare un video apposito ok ma ripeto se andate anche all'interno di questa pagina è abbastanza chiaro un po' il tutto e se andate all'interno dell'app viene spiegato tutto abbastanza bene tra le altre cose vi ricordo che questa cosa si può fare solo da app non lo possiamo fare qui da Cryptovaluta Italia è tutto se il video vi è stato utile iscrivetevi al canale attivate la campanellina delle notifiche e noi ci vediamo in un prossimo video ciao e a presto